Le posso dire che mi piacerebbe tornare più in fretta possibile a fare il magistrato e in questo momento capisco che però per Roma il percorso è ancora un po' lunghetto, un po' più lungo di quello che pensavo. Vi devo dire che originalmente pensavo che dopo l'estate di tornare a casa, adesso forse non sarà possibile. Anche perché c'è ostia, diciamo, il litorale su cui ha iniziato a impegnarsi in prima persona. Eh sì, c'è quest'altro problema di cui mi sto occupando, però la sto studiando. Ok, grazie.